Rodolfo Nacci, presidente del club atletica Partinico. Oggi al campo sportivo un grande fermento, si parte per la Maratona di Roma. Sì, sì, l'entusiasmo è mille, perché un'idea di cinque amici così buttata lì per partecipare alla Maratona ha coinvolto buona parte del club e tutto è nato con l'entusiasmo che ci contraddistingue sempre per poter andare, oltre a partecipare alle gare, andare anche per festeggiare l'evento sportivo di Roma. Quante competizioni avete effettuato ad oggi? Numerose. Negli anni abbiamo fatto varie trasferte, questa non è la prima. Abbiamo fatto trasferte sia a Valencia, ad Amsterdam, a Roma nuovamente, a Firenze. Per noi lo sport è questo, prima unirci, viaggiare, così festeggiamo un evento e poi l'evento sportivo è di contorno. Quanto allenamento avete ogni giorno? Tantissimo, preparare una Maratona è difficile, soprattutto per chi deve fare l'allenamento nel ritaglio di tempo. Non è semplice, bisogna avere la capabilità e la disciplina dello sportivo. Cosa dire a questi atleti? A un in bocca al lupo, non mancherà da parte mia e soprattutto spero da tutta la parte della cittadinanza di Partinico perché andremo a rappresentare Partinico nella Maratona più bella d'Italia e saremo il più grosso gruppo siciliano oltretutto. Il Vice Presidente, bene, qual è il tuo messaggio e la tua speranza per la Maratona di Roma? Il messaggio è quello di divertirci tutti. Poi per la buona parte del gruppo è la prima Maratona, quindi finirla in salute e in allegria pure. Perché a volte si pensa che la Maratona sia una gara molto impegnativa e lo è effettivamente. Però se si affronta con lo spirito giusto si possono divertire ed è qualcosa che ti rimane per tutta la vita. Già è la quinta Maratona che faccio e le ricordo tutte a uno a uno. Forse la prima è stata la più bella perché era la prima, però tutte sono una più bella dell'altro. Ricordiamo anche chi parte domani? Allora siamo in 26 atleti del club atletico Partinico, 5 degli amici dello sport amatori e di cui alcuni di loro sono anche di Montelepre. Quindi non siamo solo di Partinico ma anche di Montelepre. Tra questi atleti ci sono pure tre donne, due sono già alla seconda o terza esperienza nella Maratona. che hanno fatto sia a Valencia sia a Firenze. Quante ore dedicate all'allenamento? Allora almeno un'ora al giorno per cinque volte alla settimana, almeno un'ora. In questa fase ancora di più perché la preparazione per una Maratona dura tre mesi e sono tre mesi molto pesanti in cui corri anche due ore, due ore e mezzo a volta. C'è grande entusiasmo? Sì, sì, abbastanza perché nonostante magari la stanchezza e la fatica della preparazione poi comunque ti dà una grande soddisfazione. Per me questa non è la prima volta, sarà la mia terza Maratona e devo dire che concludere una Maratona è quasi come partorire un figlio perché ti lascia una sensazione meravigliosa, un ricordo indelebile e nello stesso tempo ti dà quella grinta per affrontare la prossima. Quindi magari sei stanca, dici basta, questa sarà l'ultima, però poi appena finisci, appena vedi l'arrivo, sei talmente emozionata che piangi proprio per l'emozione e pensi quando è la prossima. È importante vincere o partecipare? L'importante è partecipare e soprattutto divertirsi, di essere proprio felici, di chiuderla perché proprio nel caso della Maratona l'importante è arrivare quella, arrivare bene soprattutto. Cosa augurare a tutti questi atleti? Un grandissimo in bocca al lupo e soprattutto tanto divertimento.